Credete in Gesù Cristo, alleluia, Gesù è la speranza, cari di Alzaina, Naviglio Grande, di Milano, di qualsiasi è la tua zona, Gesù è la speranza, alleluia, siamo qui a predicare il Vangelo di questa valle di ossa secche, guardate quante anime, puoi vedere quante anime, quante anime, alleluia, Gesù disse andate per tutto il mondo e predicate il mio Vangelo, siamo qui a predicare il Vangelo di Gesù, Gesù è la via, la verità è la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, tu non puoi andare al Padre senza Gesù, tu non puoi andare al Padre senza Gesù, l'unico che salva è Gesù Cristo, l'unico intercessore, l'unico mediatore, l'unico salvatore, l'unico liberatore, si chiama Gesù Cristo, oh ascolta questo messaggio per la tua anima, tu hai un'anima da salvare nel tuo corpo, il tuo corpo diventerà polvere, ma la tua anima uscirà dal corpo, comparirà davanti a Dio, oh Gesù ancora oggi vuole salvare i peccatori, dei peccatori, dei peccatrici, Gesù è morto per i peccatori sulla croce, Gesù ha vessato il sangue sulla croce, duomila anni fa il figlio di Dio morì, ma il terzo giorno risuscitò dei morti, il Nazareno, il Messia, il salvatore delle anime, oh Gesù è il grande pastore, tu devi sapere questa verità, tu devi sapere questa verità, che dopo questa vita c'è l'inferno, il paradiso, ma Gesù vuole che tu vai all'inferno, alla perdizione, Gesù ti vuole salvare dall'inferno, dalla morte, Gesù ti vuole liberare dai peccati, dai demoni, la satana, Gesù Cristo, alleluia, 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 credi in Gesù, convertiti, ma no, hanno una religione, le religioni non salvano, la messa la domenica non ti salva, il prete non ti salva, il cosiddetto Papa non ti salva, io non ti salvo, ma Gesù ti salva, credi in Gesù, abbi fede, abbi fede, abbi fede, abbi fede, vado dopo, non ti preoccupare, come dice il Signore quando andare, qui sono liberi di predicare, lo dice anche l'articolo, alleluia, siamo liberi di predicare con la voce, come tempi antichi degli apostoli, non vi ribellate al messaggio di Gesù, perché questo è un messaggio di amore, alleluia, oh sento il fuoco dello spirito, alleluia, alleluia, prima che sia tardi potrebbe essere l'ultimo giorno della tua vita, il sangue di Gesù, proteggici signore, mi sono pentito di detto proteggici signore, Gesù, la cara moglie del fratello Bruno, Bruno Nando Abruzzese con noi, questa cara sorella che ci sta aiutando nell'evangelizzazione, tra poco ci raggiungerà anche il marito, nel nome di Gesù, alleluia, gloria a Dio, alleluia, 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 wszyscy, alleluia, aiutami, rispettatevi anche voi, cosa żyro, a gente, gloria a Dio, i signori, a loro, amici, signore, amici, signore, rumano, robust county, alleluia, signore, a loro, aleluia, chains, signore, certamente qui è una pausa, l'olio, s senore, signore, verrà il free, pecciolo погuardo, amici, doctor, scelto di dipattpa il conto, così è il tuo peccato, se non ti rabedi pagherai le conseguenze del peccato, amici, sa mai, per dare, lavatua anima all'inferno, esiste una vita dopo questa vita cari esiste il regno dei cieli a nuova gerusalemme alleluia sangue di gesù che ci andranno tutti coloro che non si pentono a gesù non ti auto condannare all'inferno non ti auto condannare alla condanna eterna non ti auto condannare nel peccato nell'inferno ma vi fede in gesù crede in gesù cerca la verità la verità del vangelo credete in gesù alleluia gesù è l'unico mediatore tu devi credere solo in gesù devi dare il cuore a gesù devi dare la tua vita a gesù di milano di qualsiasi sia la tua zona la tua nazionalità il tuo paese qualsiasi sia la tua età tu ti devi convertire non dire io sono grande ormai 70 80 anni anche mosea aveva 80 anni quando dio lo chiamò quando dio lo fece fare la chiamata divina la sua volontà tu devi credere grazie scritto non essere come tommaso trasfigura che non credeva alleluia gloria al tuo nome non essere come tommaso che non credeva alleluia gloria a Dio si credente come tommaso dobbiamo riconciliarci con Dio dobbiamo avvicinarci a Dio tu a chi ti stai avvicinando la bibbia dice avvicinatevi a Dio e Dio si avvicinerà a voi alleluia ah sai sì signor Gesù ti ama Gesù è l'unica vita che porta al cielo leggi la bibbia cara donna Gesù ti vuole salvare dall'inferno Gesù non vuole che ti perdi oh che gioia gloria al padre al figlio allo spirito santo convertitevi cercate la verità Gesù disse la verità vi farà liberi la verità vi farà liberi Gesù ti vuole liberare dal peccato Gesù ti vuole liberare dai demoni sangue di Gesù roca di Gesù convertiti che ti perdona Dio dei tuoi peccati leggi la bibbia che ti perdono a Gesù Gesù perdonò i peccatori Gesù perdonò Maria Magdalena che aveva sette demoni e una prostituta Gesù la perdono disse vai e non peccare più anche a te ti dice vai e non peccare più e poi non peccare più pentiti Shaga dai seghe Deo pentiti dei tuoi peccati me lo dico con il cuore ma anche con l'autorità dello Spirito Santo pentitevi dei vostri peccati non dire io sono a posto io non ho peccato se dici così sei bugiardo non puoi ingannare Dio può ingannare me un uomo ma è Dio non lo può ingannare Dio lo sa Dio conosce i tuoi peccati quando ti alzi quando vai a dormire Dio conosce tutto della tua vita Dio vuole che tu dipendi che tu gli dai tutto il tuo cuore cosa aspetti a dare il cuore a Gesù prima che sia tardi oggi è il tempo della grazia se udite questa voce non indurite i vostri cuori salvatevi convertitevi ecco una voce che grida come Giovanni il Battista una voce che gridava nel deserto e diceva convertitevi ravvedetevi dei vostri peccati prima che sia tardi dove andrai dopo la morte alleluia dove andrai dopo la morte alleluia alleluia tu hai un'anima da salvare tu hai un'anima da salvare il tuo corpo diventerà polvere ma la tua anima comparirà davanti a Dio tu devi essere credente tu devi riconciliarti con Dio devi avvicinarti a Dio devi cercare Gesù per il tuo bene la tua anima per avere la pace per avere la gioia per avere la vita eterna non ti salvano le tue ricchezze le tue belle case i tuoi soldi i tuoi conti in banca la tua laurea non ti salverà l'anima ma Gesù ti può salvare tu è la vera ricchezza amè donna il Gesù è la vera ricchezza tutto lasceremo qui non ci porteremo niente con noi solo la nostra anima andate avanti a Dio amè premi un messaggio amè alleluia grazie Signore Gesù amè alleluia dove andrai dopo questa vita amè alleluia ragazzi giovani ragazzi adulti qualsiasi età Gesù mi vuole salvare alleluia ascolta Gesù ti vuole salvare dall'inferno alleluia 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 dopo questa vita la tua anima la tua anima uscirà dal corpo lo dico io lo dice la Bibbia cercate il Signore non in una chiesa che non salva nella tua cameretta quando sei solo tu piega le tue ginocchia cercate e troverete bussate e vi sarà aperto chiedete e vi sarà dato alleluia alleluia e dice il Signore io ti perdono tutti i tuoi peccati io ti perdono tutti i tuoi peccati che commetti la mattina il pomeriggio la notte io ti perdono dice Gesù vieni a me figlio mia figlia mia io ti libero io ti purifico col sangue di Gesù il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato scritto nella Bibbia nelle lettere di Giovanni in bocca il sangue di Gesù il diavolo va via alleluia in bocca il sangue di Gesù c'è potenza nel sangue di Gesù Amen abbi fede in Gesù credilo e lui si prenderà cura di te nella tua anima nella tua vita lui si prenderà cura di te Gesù il buon pastore il buon salvatore il Dio buono il Dio grande Alleluia El Shaddai Adonai Elohim Elohim Lama sabachthani quando Gesù stava per morire alla croce lui chiamava il Padre Dio mio Dio mio perché mi ha abbandonato Elohim Elohim Lama sabachthani oh Gesù non ti vuole abbandonare Don vai a Lui Amen credi Convertitevi Convertitevi a Gesù potrebbe essere l'ultimo giorno della tua vita chiedi perdono a Dio dei tuoi peccati non essere ribelle non essere incredulo Gesù ti ha formato nel tempo di tua madre i figli sono un dono di Dio non disprezzare Dio il creatore dei cieli del mare della terra Abbi fede in Gesù cerca Gesù legge la Bibbia legge il Vangelo Amen cerca questa grande verità cerca il Signore prima che sia tardi il Dio ha tanto amato il mondo ti ha mandato il suo nigerito figliolo affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna scritto nel Vangelo di Giovanni capitolo 3 verso 16 Dio benedica queste anime perdute fratelli e sorelle ammè gloria a Dio bisogno guardate Dio vi benedica quante anime perse quante anime perdute alleluia pregate per queste anime che hanno bisogno dell'amore di Gesù tua anima che ascolti tu hai bisogno dell'amore di Gesù tu hai bisogno del perdono di Gesù alleluia tu hai bisogno di pregare di pregare nella tua cameretta di pregare Gesù devi leggere la Bibbia devi cercare il Signore che ti libera che ti libera dei peccati fai questa preghiera non ti vergognare se ti vergogni di Gesù lì si vergognerà di te al paradiso alleluia alleluia gloria a Dio gloria a Dio e basta alleluia io credo solo a Dio e basta gloria a Dio e basta ora ti faccio solo a te gloria a Dio io sono dentro il cuore gloria a gesù pure noi vi posso dire una cosa sorella io ho fede di e basta ma in verità non c'abbiamo neanche un predicando di ottene gare a di 3 di camore anche per questo credete in gesù convertitevi alleluia siamo in diretta dopo gloria al signore convertitevi cercate il signore io benica questa donna io non c'ho soldi in tasca fratele e sorelle ma posso dare i soldi per aiutare per comprare il pane e il latte ma non c'è soldi fratele sono disoccupato pregate per questa donna che dio la provvederà cercate il signore alleluia per un missionario di gesù pregate per quella donna che dio la provveda gesù è la speranza e la salvezza convertitevi provvede convertitevi dalle vostre vie malvagie dio vi vuole salvare dei vostri peccati vi vuole illuminare gesù alleluia a me